Amici di Prometheus bentrovati in questo nuovissimo articolo che oggi dedichiamo ad un oggetto ad un accessorio nato per videomaker ma direi in questo caso addirittura anche per fotografi capirete adesso perché che è appunto un nuovo monopiede che mi ha letteralmente colpito già in passato io ho scelto Sirui come mio setup personale per i miei lavori e l'ho fatto con un monopiede che vi lascio in descrizione qui all'interno del mio video e che trovate ben recensito ma oggi praticamente andiamo a parlare di un suo possiamo dire un fratello maggiore del monopiede già presentato per la precisione parleremo del P424SR EU allora come vedrete un monopiede veramente incredibile che ha dell'incredibile per le sue caratteristiche e per la sua professionalità incredibile tantissime cose adesso ve lo faccio vedere e sono convinto che voi stessi potrete rimanere colpiti peccato che forse dal video non potrete vivere appieno quella che è la sua diciamo fattezza quindi la sua costruzione e la sua usabilità però vi assicuro che è qualcosa di eccezionale cercherò a mio malgrado di fare un video che dimostri il più possibile quelle che sono le caratteristiche di questo monopiede è incredibile eccolo qui intanto viene fornito all'interno di una custodia molto ben fatta come vedete e praticamente la custodia ha un doppio manico in questo modo e ha una tracolla che adesso non ho montato ma fra poco ve la faccio vedere che può essere agganciata e quindi il monopiede può essere portato in spalla in questo modo va bene fatto salvo questo andiamo aprire la custodia ed eccolo qui in sostanza come vedete si presenta molto compatto malgrado adesso vedrete a che altezza è capace di arrivare ha dei piedi incredibilmente a tutta apertura incredibilmente ampi che possono essere diciamo semplicemente aperti con un pulsantino qui laterale lo si schiaccia e si apre in questo modo lo scatto in automatico blocca praticamente il piedino e in un batter baleno siamo pronti in che modo facendo questo gesto qui e voilà a massima altezza adesso voi non lo vedete perché mi supera in altezza di ben 10 15 centimetri abbondanti ma forse anche più 20 centimetri considerate che io sono alto 1,73 e questo praticamente monopiede ha tutta apertura adesso vado a richiuderlo quindi a bloccarlo sulla sua massima altezza con l'attacco a vite eccolo qui praticamente come vedete mi supera in arriva praticamente qui su e è incredibilmente alto malgrado la sua altezza è in grado di rimanere in piedi ben fermo e non c'è il rischio che cada lo stesso quindi assolutamente ben poggiato chiaramente potete fare delle riprese dall'alto e chiaramente potete fare movimenti tipo modello crane in questo modo muovendo la camera a distanza o comunque in altezza ok adesso non ho molto spazio per poter fare questi tipi di inquadrature considerate che il monopiede è tutto in fibra di carbonio quindi leggerissimo e ha praticamente quindi la potenzialità di essere molto compatto quando lo si chiude e molto alto quando lo si estende adesso riportiamoci ad un'altezza umana ok che più o meno è questa e la particolarità di questo stupendo oggetto è che già lo stesso anche senza una testa può essere utilizzato come se fosse un cavalletto e adesso vi faccio vedere come e perché qui abbiamo un blocco che come vedete quando è tutto serrato blocca praticamente non fa ruotare nulla se lo sblocco invece consente di far ruotare praticamente la nostra camera posizionata sopra perfetto adesso siamo ad un'altezza sicuramente più umana la prima cosa che facciamo è andiamo ad alloggiare sul monopiede una camera la camera chiaramente voi direte sì ma manca la testa ecco può essere tranquillamente inserita sul monopiede anche senza la testa perché la vite che praticamente è presente sulla testa del monopiede è doppia facciata e quindi abbiamo da un lato l'impanatura per la macchina fotografica dall'altra l'impanatura classica delle teste e quindi mi basterà girare praticamente la vite e andarla a riposizionare al contrario quindi con l'impanatura al contrario a questo punto potrò tranquillamente prendere la mia macchina e andarla a praticamente avvitare sul monopiede in questo modo ok si tratta in questo caso di un S1 ok perfetto ci siamo eccola qui è pronta all'utilizzo voi direte sì ok ma se devo ruotare come faccio cioè sono bloccato no perché questo monopiede è dotato praticamente di questo innesto che può essere svitato in questa maniera e la macchina può fare tranquillamente tra l'altro in maniera frizionata perché a seconda di quanto io stringo praticamente posso più o meno regolare la diciamo potenza di rotazione quindi la scioltezza di rotazione e come vedete posso utilizzare il monopiede così come se fosse una testa ok vedete che fare questo tipo di movimento la macchina chiaramente è perfettamente stabile perché dotata di piedini veramente estremamente lunghi e quindi consente di poter tranquillamente sorreggere la macchina e stare veramente tranquilli che la stessa non cada insomma potete pensare a questo monopiede quasi a un ibrido tra un cavalletto e un monopiede stesso altra particolarità di questo monopiede è l'aggancio che abbiamo qui alla fine dello stesso che permette di fare qui abbiamo vedete una fermo che liberato consente di una volta che io ruoto quest'ulteriore ghiera consente di avere il movimento di questo tipo e quindi se adesso posiziono giù posso fare questo movimento e contestualmente quello che vi ho fatto vedere prima quindi sganciando qui posso ruotare e muovermi mantenendo il tutto stabile in questo modo ok vedete posso fare questo rotazione contemporaneamente rimanere stabile sul terreno il fermo automaticamente ritrova la sua centralità avvitandolo adesso vi faccio vedere io sto avvitando lo stesso e come vedete automaticamente si è riallineato praticamente in maniera centrale basterà poi rifermarlo in questa maniera siamo pronti per operare di nuovo tenendolo perfettamente sull'asse centrale richiudere lo strumento è veramente semplicissimo gli agganci possono essere chiaramente poi supervisionati puliti e non c'è nessun tipo di rischio sulla perdita dei pezzi perché è tutto bloccato quindi mi basta agganciare e chiudere chiudere praticamente il monopiede è semplicissimo può essere fatto con una sola mano perché io faccio un gesto di questo genere chiudo ecco sempre con una mano sola posso chiudere tutti e tre i fermi praticamente con un gesto solo vedete richiudo e sono pronto a riporre il mio monopiede veramente leggero vi lascio qui in descrizione il peso dello stesso ulteriore peculiarità di questo accessorio è la possibilità di avere due strumenti in uno e vi faccio capire che cosa intendo è possibile infatti svitare praticamente la parte finale del monopiede in questo modo ok staccarli qui posso alloggiare un puntale quindi un puntale di ferro oppure un puntale in gomma che ho all'interno della custodia e in questo caso invece ho un altro supporto identico a questo che posso montare qui e quindi questo mi diventa un treppiede a tutti gli effetti possibile da utilizzare contemporaneamente allo stesso quindi metto una macchina a fare un timelapse su questo treppiede e contemporaneamente utilizzo il monopiede con il semplice piedino a puntale all'interno infatti della confezione abbiamo una doppia testa diciamo chiamiamola così vedete con la vite di cui parlavo prima doppia facciata ok doppia impanatura quindi questa può essere associata al treppiede poi abbiamo il piedino in gomma che può essere avvitato una volta che avete sganciato i treppiedi oppure l'accessorio con la punta in ferro sempre nella custodia come vi dicevo prima c'è la tracolla che potete utilizzare per portare il vostro monopiede in spalla e delle chiavi con cui potete stringere i morsetti dei treppiedi finali laddove si dovessero allentare o doveste avere l'eccessiva di sostituzione tutti i supporti sirui sono dotati inoltre di un'impugnatura in gomma piuma che consente molto resistente che consente di manovrare gli stessi anche in condizioni di bassissime o altissime temperature e quindi consentire di non avere freddo alle mani o caldo nel momento in cui tocchiamo magari perché stanno sotto il sole o a fare dei time lapse lunghi magari in un ambiente molto freddo un'ultima nota di merito di questo monopiede che vado a richiudere per riporlo è proprio legato alla custodia che ha la possibilità di si riporlo ma addirittura all'interno della custodia ci sono dei fermi di modo che il monopiede non vada in giro per la custodia e come vedete può essere riposto e il tutto è facilmente trasportabile io vi lascio qui in descrizione sotto il video tutti i riferimenti laddove doveste pensare ad un acquisto veramente utile veramente professionale si tratta di un monopiede a mio avviso adatto sia a fotografi che a videomaker che va a coprire esigenze veramente di tutti i tipi e che è fatto veramente veramente con tanta cura e vi ringrazio se vi è piaciuto questo articolo se avete delle domande in merito chiaramente rimango a disposizione laddove doveste avere delle domande potete chiaramente contattarmi e farmele sotto il video io vi ringrazio per il momento ci vediamo alla prossima puntata ciao